Fermiamoci, è il titolo dello spettacolo messo in scena all'Auditorium Italia di Atessa dagli studenti dell'Istituto Ciampoli Spaventa di Atessa. La coordinatrice, come d'altronde l'anno scorso, Catiusha Garafa, la professoressa che è appunto, possiamo dire, una coreografa in questo caso, giusto? Sì, ho tentato di fare la regista, ma naturalmente non è il mio lavoro. Io sono un'insegnante del Ciampoli Spaventa che dall'anno scorso ha pensato di proporre questo progetto che si chiama proprio Ciampoli Spaventa in scena ed è rivolto a tutti i plessi della scuola media e della scuola superiore del nostro istituto che è insomma abbastanza ampio. Quest'anno abbiamo messo in scena uno spettacolo che si intitola Fermiamoci ed è una riflessione sulla guerra che abbiamo già iniziato in occasione delle celebrazioni del 4 novembre e che è poi continuata con il gruppo di teatro ma abbiamo poi fatto, diciamo così, una deviazione, una riflessione su quello che l'uomo diventa durante la guerra e inevitabilmente su quello che perde durante la guerra. Fermiamoci vuole essere un monito, è uno stop per dire fermiamoci, cerchiamo di capire che tipo di società vogliamo diventare, che uomini vogliamo diventare per evitare appunto di compiere gli stessi errori del passato. Coloro che questa sera hanno assistito allo spettacolo hanno versato un piccolo obolo che serve per uno scopo nobile, uno scopo benefico. Quale? Allora, noi apparteniamo ad una rete di cui siamo orgogliosi ed è la scuola di Arcobaleni, già dallo scorso anno. L'obiettivo di questa rete di scuole è proprio quel di creare una scuola dove non c'è, sottolineando appunto l'importanza dell'istruzione, l'importanza della scuola per qualsiasi percorso di sviluppo. Una scuola di Arcobaleni non è una semplice raccolta di fondi, diciamo, che poi vengono donati, ma è una raccolta di fondi che avviene attraverso attività didatticamente progettate, dove a crescere sono anche i nostri alunni. È uno scambio con un mondo forse meno fortunato di noi, dove però da ambo le parti si può ricevere una grande ricchezza, che per noi è un recupero valoriale, un'attenzione, un'apprezzare maggiormente quello che abbiamo, per loro è un supporto affinché possano prendere, diciamo così, la via dello sviluppo autonomo. A proposito di scuola di Arcobaleni, Nicola Orsini è un testimonial che questa sera è venuto a raccontare la sua esperienza. Come è nata e che cosa hai potuto fare in questa esperienza che ti ha insegnato molto da quello che hai detto sul palco? Allora, ho deciso di effettuare questo viaggio a seguito di una proposta che mi è stata avanzata da parte della preside, nonché presidente dell'associazione Una Scuola di Arcobaleni, che conta ormai una rete di scuole molto variegata e di numerose scuole. Appunto lei dà la possibilità a tutti gli studenti che frequentano queste scuole di questa rete per cercare di effettuare questo viaggio. Quindi, dovendomi trovare a fare una scelta, ho cercato di trovare tutte quelle motivazioni che mi consentissero di effettuare un'esperienza che di sicuro non può essere ricollocata sotto la dicitura di un semplice viaggio di istruzione. Come ho detto precedentemente, non lo definisco mai un viaggio, ma è un'esperienza che ti scava dentro e che riesce a scaturire in te anche tantissime riflessioni e tantissime emozioni che molte volte nella vita di tutti i giorni diamo per scontate. Ad esempio il pesare un abbraccio o il pesare ancora in senso più generale un'emozione. Ovviamente una scuola di Arcobaleni si serve di queste scuole e ha come progetto unico quello di partire dall'idea di scuola per costruire scuole dove non ce ne sono e in senso più generale di realizzare comunque delle strutture di prima necessità che possono essere un pozzo per la raccolta dell'acqua, un ambulatorio come è stato costruito recentemente per assicurare comunque delle cure sanitarie a bambini che ne hanno bisogno e cercare di improntare una piccola microeconomia lì nel villaggio di Sambote dove opera in Senegal al confine con la Mauritania. Conti di ripetere questa esperienza? Diciamo che quest'anno, un mese fa, sono tornato dalla mia seconda esperienza e non vedo l'ora ogni volta che mi porgono questa domanda di ritornare più che altro perché la prima volta la definisco come sempre quel viaggio che ti fa un po' aprire gli occhi e capire cosa c'è da fare. La seconda volta inizi a maturare quest'idea e cerchi di concretizzarla quindi già dalla seconda volta in poi le cose iniziano a diventare più difficili perché capisci che non è il semplice andare a prendere e mettere qualcosa lì che non c'è ma cercalo di fare per durare nel tempo e di conseguenza le volte che verranno e che ci saranno e si presenteranno saranno comunque delle volte che si vanno ad aggiungere per cercare di fare qualcosa in più un'altra volta e di vedere un po' quello che è il lavoro di come sta continuando questo lavoro e verso quale strada si può muovere quindi sì sicuramente cercherò di riandare, ce lo spero.